Una speranza in più per scongiurare la chiusura del Tribunale di Vasto è arrivata dalle parole della deputata Carmela Grippa che durante un convegno sul tema relativo alla soppressione dei presidi di legge abruzzesi tenutosi nella cittadina vastese presso la sala Aldomoro, ha confermato come sia in procinto di essere approvato un emendamento per la proroga del Palazzo di Giustizia fino al 2022 con uno stanziamento di 2 milioni di euro. A nome del Movimento 5 Stelle oggi ho avuto la certezza dal governo, dal sottosegretario Castaldi, che il nostro emendamento quindi c'è, è un emendamento che proroga la chiusura al 2022, ci sarà uno stanziamento di 2 milioni di euro perché per la proroga è necessario uno stanziamento economico. Adesso è al vaglio del Consiglio dei Ministri e poi del Quirinale, ma quindi a giorni avremo la certezza, però questa è già una certezza. Cautoottimismo è stato manifestato a riguardo dalla Presidente della Tribunale Vastese, Bruno Gian Giacomo, che auspica però una soluzione definitiva. Sicuramente una buona notizia, l'importante è che questo spazio di tempo, che è di per sé una cosa utile indubbiamente, venga utilizzato adeguatamente per trovare una soluzione che sia una soluzione definitiva. definitiva per poter cercare di far sì che questo presidio di giustizia venga mantenuto in questo territorio. Vittorio Melone, Presidente dell'Ordine degli Avvocati Vastesi, vorrebbe però una proroga fino al 2024. Ci dà la possibilità di verificare gli effetti delle entrate in vigore di una serie di riforme già varate e altre che sono al vaglio del Parlamento e ci dà la possibilità di avere un arco temporale abbastanza lungo da giustificare la riapertura delle piante organiche. Per il Procuratore Giampiero Di Florio la proroga non è sufficiente se non si riaprono le piante organiche. Per rinviare la chiusura, ma dipende da come la vogliamo rinviare, la proroga non è assolutamente sufficiente. Se non si dà corso alla riapertura delle piante organiche, la proroga può servire per allungare i tempi di una morte sicura. A me sembra un accanimento terapeutico senza prendere in mano la prima decisione che deve essere fatta, che è quella della riapertura delle piante organiche.